E' partita la più lunga missione in orbita mai avviata dalla Cina, dalla base spaziale del deserto del Gobi e è decollato il modulo Shenzun-11 con a bordo due astronauti che pechino lasciando lo spazio per 30 giorni. In 48 ore l'aggancio al laboratorio Tiangong-2, messo in orbita lo scorso mese, è destinato alla preparazione entro sei anni di una stazione spaziale abitata che sarà operativa a partire dal momento in cui andrà in pensione l'ISS.